Presentazione dello splendido album jazz del quartetto di Gianni Insalata che si chiama Walk in Progress. Buon ascolto a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E questo è l'album Walk in Progress, la title track del Gianni Insalata Quartet e giustamente ha vinto il Jazz It Award Greatest Jazz Album nel 2012 ed è stato segnalato anche dal portale Jazz, agenzia di Chicago, pensate, che si chiama Coco Pro Jazz. E allora, tra i migliori album jazz 2012, torniamo ad ascoltare lo splendido album del Gianni Insalata Quartet e questa è la title track, Walk in Progress. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.